Musica Scatta già da domani l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, una delle misure varate dal governo per arginare la quarta ondata. Dal 15 febbraio per gli over 50 anche su per Green Pass al lavoro. Chiusa in anticipo e senza preavviso la piscina comunale di Merate, quella privata di Oggiono, il tribunale ha imposto alla Gessisport in fallimento la serrata immediata. Musica 2021 da record per l'orrido di Bellano, registrati quasi 140.000 visitatori, 9.000 dei quali solo a dicembre e il 2022 si è aperto con 2.500 biglietti staccati. Musica Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica Alecco. Scatta già da domani l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. È una delle misure varate dal governo per contenere la quarta ondata e dal 15 febbraio ci sarà anche obbligo di Super Green Pass per gli ultracinquantenni sul lavoro. Entrano in vigore già da sabato alcune delle nuove norme stabilite dal Consiglio dei Ministri per originare la quarta ondata di contagi da Covid-19, arrivata a superare quota 200.000 nuovi positivi al giorno. Valido da subito l'obbligo di vaccinazione per tutti i cittadini italiani e stranieri di almeno 50 anni. Per chi ha avuto il Covid l'obbligo è sospeso fino alla prima data utile per la vaccinazione di norma 4 mesi più tardi. Le esenzioni per motivi medici dovranno essere attestate dal medico di medicina generale e valutate dall'azienda sanitaria competente, che nel caso rilascerà una certificazione ad hoc. Il decreto prevede, per tutti coloro che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal 1 febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum che sarà erogata dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'incrocio dei dati. Gli over 50 dovranno vaccinarsi o essere guariti dal Covid anche per lavorare, previsto l'obbligo di Super Green Pass per tutti i dipendenti pubblici e privati, oltre che per i liberi professionisti. Dunque, chi ad oggi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio. Per chi accederà ai luoghi di lavoro senza Super Green Pass è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Saranno considerati assenti ingiustificati, dunque non perderanno il posto ma lo stipendio. Enterrà in vigore dal 20 gennaio invece l'obbligo di Green Pass semplice, dunque ottenibile anche tramite tampone, per l'accesso degli utenti alle attività che offrono servizi alla persona, come uffici pubblici, poste, banche, attività commerciali, salvo quelle considerate essenziali. Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette la verifica. E sui prezzi calmierati delle mascherine FFP2 in farmacia intervengono i farmacisti lecchesi che temono che il prezzo di 75 centesimi sia troppo basso da sostenere. Cercheremo in ogni modo di andare incontro ai cittadini come abbiamo sempre fatto, è il commento del presidente di Federfarma Lecco, Andrea Braguti. Prezzi calmierati per le mascherine FFP2, che cosa ne pensa? I farmacisti lecchesi pensano che piuttosto che ricevere un'imposizione dall'alto, come è accaduto alla firma dell'accordo tra il generale Figliolo e il presidente di Federfarma nazionale, sia preferibile un'autoregolamentazione sul territorio. Mi spiego meglio. Il generale Figliolo e il nostro presidente nazionale hanno deciso che il prezzo calmierato delle mascherine FFP2 dovrà essere di 0,75 centesimi. È un prezzo molto basso rispetto alla media di acquisto delle farmacie che in questo periodo hanno avuto anche grosse difficoltà reperire il prodotto. Non ci è piaciuto il modo di gestire la situazione da parte del nostro sindacato che senza avere alcun contatto con la base ha imposto questo accordo già ormai firmato. Abbiamo scoperto che l'accordo era in essere dai mezzi di stampa piuttosto che dai social. Abbiamo ricevuto poi in serata la circolare che dava le tracce. Ci rendiamo conto però che questa situazione è una situazione difficile per la popolazione e quindi le farmacie lecchesi in maniera personale si autoregolamenteranno sul prezzo finale della mascherina FFP2 avvicinandosi in maniera importante alla cifra dello 0,75 del generale Figliolo. Per uscire di metafora, io ho sempre venduto le FFP2 a 1,50 euro, da oggi le sto vendendo a 1 euro, quindi con una scontistica del 35%. Ed è una doccia fredda per gli utenti delle piscine di Oggiono e di Merate. Il Tribunale di Milano, che dopo il fallimento della Gestisport aveva concesso una gestione provvisoria di altri tre mesi, oggi ha ordinato la serrata e gli utenti si sono trovati cancelli chiusi all'ora di pranzo. Una decisione che ci ha colto di sorpresa. Stiamo lavorando per trovare una soluzione, dice il sindaco di Merate, Massimo Panzeri. Chiusura con effetto immediato dell'attività delle piscine di Merate e Oggiono. Ordinare l'accessazione dell'esercizio provvisorio dei centri gestiti dalla società Gestisport, di cui è stato dichiarato il fallimento lo scorso 23 dicembre, è stato il Tribunale di Milano. Una vera e propria doccia fredda per gli utenti delle due piscine, che oggi all'ora di pranzo hanno trovato i cancelli chiusi, nonostante inizialmente il giudice avesse concesso di proseguire l'attività per tre mesi. Informo la cittadinanza meratese e tutti gli utenti del centro sportivo comunale di Via Matteotti, piscina e palazzetto, che nella tarda mattinata di oggi sono stato informato dal curatore fallimentare, Mario Candiani, dell'immediata cessazione dell'esercizio provvisorio. Spiega in una nota il sindaco di Merate, Massimo Panzieri. L'impianto è stato pertanto chiuso, nostro malgrado, con decorrenza immediata. L'amministrazione comunale era già lacrimente al lavoro per individuare un nuovo soggetto gestore fin dalla comunicazione della sentenza di fallimento. Da oggi lo sarà ancora di più, auspicando di poter riaprire il centro nel più breve tempo possibile. Purtroppo la repentina decisione del curatore fallimentare ha colto di sorpresa noi, come anche i colleghi sindaci degli altri impianti coinvolti nel fallimento, ben nove, con alcuni dei quali mi sono confrontato in questi giorni, condividendo le preoccupazioni per il destino di questi centri. Siamo perfettamente consapevoli del disappunto e dei disagi che ciò arrecherà alle migliaia di utenti e ai lavoratori coinvolti, cui garantiamo massimo impegno e determinazione nella risoluzione della problematica. Intervento provvidenziale per la settima delegazione Valtellina-Valchiavenna del Soccorso Alpino. Una donna di 66 anni, residente a Calolzio Corte, mentre passeggiava sul sentiero sopra il paese di Gerola Alta, è scivolata, stava camminando con un'altra persona, all'improvviso ha perso l'equilibrio, è caduta per 5 metri, ha continuato a cadere nel bosco ripido e si è fermata contro alcuni alberi. In immediato l'allarme e le squadre l'hanno raggiunta, imbarellata e stabilizzata e poi calata per una cinquantina di metri. L'elisoccorso di Areo decollato da Bergamo l'ha trasportata in ospedale. E cambiamo argomento, numeri da record per Auserlecco nel 2021. Sono in netta crescita le richieste di aiuto e di supporto. Tanti sono anche i nuovi progetti di inclusione sociale previsti per il 2022. Cresce la domanda di supporto da parte delle persone più fragili nella nostra provincia. A evidenziare il dato è Auserlecco che rispetto al 2019 anno pre-covid ed ha svolto quasi 15.000 servizi di accompagnamento sociale in più. Il presidente dell'associazione Claudio Dossi lancia un appello. Ora servono nuovi volontari. Oltre ai 38.292 servizi di accompagnamento, molti verso gli avevaccinali, con un incremento pari al 52%, solo nel 2021 sono state 31.500 le telefonate sociali, 55 i servizi di raccolta di latte materno donate alle mamme e consegnato al reparto di pediatria all'ospedale Manzoni. Ancora le consegne dei passi e dei farmaci e i servizi fuori dalle scuole a tutela dei bambini durante l'attraversamento pedonale. E poi il lavoro di promozione sociale e culturale con le iniziative come l'albero di Natale alto 6 metri fatto all'uncinetto dalle volontarie di Hauser Paderno. Hauser Lecco ha potuto andare incontro all'incremento delle richieste grazie all'apertura di tre nuove sedi, ora 15 in totale, e alla collaborazione di 415 volontari, di cui 123 nuovi aderenti nel 2021. Ma non basta rispondere alla domanda crescente e alle nuove iniziative. Ora è tempo di pensare al 2022, spiega Dossi. Sono tanti i progetti che abbiamo per il futuro, le nostre riflessioni, i nostri sforzi saranno ancora una volta rivolti a migliorare la risposta ai bisogni sociali delle persone anziane e dei disabili, con interventi a tutto campo. La prossimità verso chi è più fragile, il loro aiuto è la priorità della nostra associazione, ma non è l'unico tema che intendiamo portare avanti. Vogliamo rafforzare la nostra azione in rete con i comuni del distretto, effettuare iniziative di inclusione sociale, ma anche di miglioramento del clima e dell'ambiente in cui viviamo, tramite un'innovativa attività di trasporto sociale green. Chi fosse interessato a dedicare qualche ora a chi ha più bisogno, può chiamarci allo 0341 286096. È una giornata gratuita sugli sci per i bambini vaccinati. A promuovere l'iniziativa è il comprensorio dei piani di Bobbio Valtorta. Dal 10 gennaio al 10 febbraio sarà possibile per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose e sono quindi in possesso del Green Pass, ricevere il regalo uno ski pass. Facciamo quanto possibile per incentivare la campagna vaccinale, dice Massimo Fossati, amministratore di ITB. E ricordiamo che dal 10 gennaio scatterà l'obbligo di super Green Pass sugli impianti. ed è stata un'annata da record per l'Orrido di Bellano che ha registrato quasi 140.000 utenti nell'arco dell'anno, 9.000 solo a dicembre e ha iniziato il nuovo anno, a Capodanno, il primo giorno dell'anno strappando 2.500 biglietti. Intanto prosegue fino al 9 gennaio la magia di Natale con lo spettacolo di luci Orrido Magic Christmas Light. Il record in queste ore, 2.600 ingressi in un giorno. Nel pomeriggio di Capodanno i visitatori erano stati 1.500. L'Orrido di Bellano fa il pieno di turisti con numeri importanti, 138.500 biglietti staccati nel 2021. Solo nel mese di dicembre si sono registrati 8.500 ingressi di cui ben 2.000 bellanesi attratti dallo spettacolo di luci e colori dell'Orrido Magic Christmas Light che proseguirà fino al 9 gennaio. La gola naturale creata dall'erosione del torrente pioverna che nel corso dei secoli ha modellato la roccia formando gigantesche marmitte e suggestivi canyon visitabili grazie a un sistema di passerelle continua ad essere una delle attrazioni di maggior richiamo della sponda lecchese dell'Ario. Il 2021 nonostante la pandemia è stata un'ottima annata culminata con la grande inaugurazione delle nuove passerelle lo scorso 12 giugno 350 metri di nuovo tracciato alla presenza di tante autorità. Fa sapere con un post su Facebook lo staff che gestisce le visite in accordo con l'amministrazione. E i lavori non si fermano il 2022 sarà sicuramente l'anno della Cade il Diavol la nostra storica torre che si svelerà per la prima volta al pubblico con un museo multimediale al suo interno ad alto tasso di emozioni. Soddisfatto il sindaco di Bellano Antonio Rusconi che ha confrontato i dati del 2016 con quelle del 2021 da 18.138.500 ingressi. Che numeri! Era la nostra ultima notizia e vi ricordo che potete seguire le nostre news su teleunica.com guardare le trasmissioni e il palinsesso su teleunica.tv e trovare tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Buona serata e buon weekend! Buon weekend! Grazie! 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 Grazie!